Il biscottificio Noi Genitori Factory è una bella realtà del territorio erbese, un'occasione di formazione e inserimento lavorativo per le persone diversamente abili. Siamo andati a scoprire di cosa si tratta. Noi Genitori è nata 25 anni fa con un solo scopo, fornire cura e assistenza alle persone con disabilità. Cosa stanno producendo i ragazzi nel laboratorio Qualifianco? I biscotti, si chiama il biscottificio proprio per quello. È un laboratorio artigianale di prodotti secchi da forno. È un'idea semplice, un'idea che in qualche modo ripercorre quanto fatto in passato, come lavoravano i nostri artigiani comaschi 50-60 anni fa, con materie prime del luogo, con calma e provare a fare prodotti il migliori possibile. Siamo all'inizio, siamo partiti a gennaio, quindi sono pochissimi mesi. L'iniziativa sta coinvolgendo moltissime persone, sta coinvolgendo molti dei nostri ragazzi che hanno trovato in questa attività un nuovo slancio, una nuova voglia. L'obiettivo finale è un lavoro, un lavoro vero, magari poche ore al giorno, ma un lavoro vero e retribuito, che permetta loro di assumere pienamente il ruolo adulto. La Fondazione Provinciale della Comunità Comasca ci ha sostenuto acquistando gli strumenti del laboratorio. Enaip di Como, la scuola per panificatori e pasticceri, ha elaborato con i loro studenti le ricette e ogni settimana vengono qua alcuni studenti con i professori a lavorare con i nostri ragazzi, a formarli. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima puntata.